L'ennesimo dramma della solitudine ritrovata un'anziana nella sua casa di campagna in zona ponte alla nave cadavere dopo tre mesi la donna aveva 87 anni ed erano mesi che i suoi vicini non la vedevano uscire a scoprire il corpo della donna senza vita riverso sul pavimento le forze dell'ordine nell'ambito delle ricerche della bambina di 9 anni ritrovata poi nel canale maestro della chiana le ricerche si erano concentrate proprio in quella zona le forze dell'ordine avevano fatto irruzione nella casa la ricerca di informazioni utili al ritrovamento della piccola scomparsa quando hanno fatto la scoperta del cadavere l'anziana era deceduta mesi fa secondo gli inquirenti potrebbe essere stato un malore a stroncare la donna